Sei incontri dal 12 novembre al 28 gennaio. Qual è il filo conduttore di questa nuova edizione di Venaria Racconta? Il filo conduttore è approfondire la storia di Venaria e approfondirla attraverso il contributo di appassionati della storia di Venaria e sono appassionati che nascono da Venaria stessa, dalla sua gente. Penso a Armando Crivelli che è un ricercatore veramente assiduo e anche un promotore appassionato, possiamo dire, pure di Venaria Racconta. I primi due incontri, quello del 12 novembre e del 19 novembre, si svolgono in due ristoranti. Il primo, dei Tiemotti Piemontesi a luce della Venaria, il 12 novembre, il secondo, il 19 novembre, alla Trattoria San Marchese. Direi che sono quelli più legati alla tradizione e alla vita quotidiana della gente. Detti emotti piemontesi? Beh, in qualche modo possiamo dire che molti di questi detti emotti piemontesi sono, fanno parte della tradizione del mondo contadino, ma italiano e forse fa anche oltre, ma sono rivissuti attraverso la vita quotidiana, le relazioni avvenute nel territorio. Assieme a Crivelli abbiamo i contributi di Elvino Suppo e di Alberto Montersino. Il secondo incontro è sulla condizione femminile ai tempi delle cascine, Savonera in particolare. Ecco, qui direi che però il punto di vista è particolare, nel senso che è il punto di vista di quello che potremmo chiamare l'anello forte della tradizione contadina che è la donna, impegnata nel lavoro della cascina, nel lavoro dei campi e poi nella conduzione della casa. Ci saranno Nocrivelli e Ernesto Balma, avrebbero in effetti dovuto esserci i genitori di Ernesto Balma. Forse ci sarà qualche nonna con la quale si potrà colloquiare. Quello del 15 dicembre e quello del 17 dicembre direi sono un omaggio a due figure venariesi, a due figure che hanno amato Venaria. Una è Jacqueline Dolo, viene ripresentata la riedizione del suo libro, La Venaria Reale dal 600 ai giorni nostri, la Diana Trionfatrice. La ripresentazione del libro dimostra l'amore di questa persona per Venaria, per la sua storia, ma quindi la storia che parte dalla reggia, per i personaggi che hanno vissuto a Venaria, per le istituzioni venariesi, da quelle militare a quelle civili, per i personaggi illustri, c'è la sensibilità di un poeta, c'è l'amore per la cultura. E questo, leggendo il testo, si può notare. E poi, il 17 dicembre, invece, c'è una presentazione di un libro che sarà pubblicato a breve, sulla storia della seta naturale a Venaria. Questo è un lavoro postumo, in realtà è un lavoro a cui Franco Manetta, che come Jacqueline Dolo ci hanno lasciato l'anno scorso, aveva lavorato. Direi che un gruppo, il gruppo legato all'associazione Centofiori, con Beppe Costamagna, Egidoro Galasso, Mauro Genovese e Maria Savino, hanno ripreso il suo materiale, quindi hanno ridato un ordine, ma sostanzialmente il testo sulla storia della seta naturale era integro, ha richiesto ben poco lavoro. Questi due incontri, invece, saranno presentati al Concordia. Poi ci sono gli incontri del 2011, di gennaio. Questi sono due incontri che coinvolgono i giovani. Sono il frutto di un'attività di ricerca attenta, meticolosa, competente, di archivio, di lavoro negli registri parrocchiali. Il primo incontro, con Davide De Franco, presenta la Venaria prima della Regia. In realtà, quindi, è altezzano superiore. Scopriremo, quindi, una Venaria, un'altezzano superiore che conosce, legate all'attività di caccia, coi Savoia, attività di immigrazione, immigrazione dalla Savoia, ad esempio, e più un'osservazione sulle attività umane, le culture, quindi l'attività dell'agricoltura e della seta, che comincia a diventare un'attività produttiva per Venaria. L'incontro del 28 gennaio è con Milena Caruana. Milena Caruana è un architetto che ha fatto una tese, che direi, strepitosa su Venaria. Ci propone una passeggiata attraverso le immagini in Venaria reale e ci racconterà la storia del borgo venariese attraverso i suoi palazzi, i suoi palazzi più antichi. Quindi un'offerta culturale con poche risorse economiche. Io direi veramente sì. Le risorse sono poche, ma con un lavoro di qualità arricchito dalla passione di chi ama Venaria. E qui giovani e meno giovani sono uniti proprio in questo comune obiettivo, contribuire a rendere una Venaria più viva, più apprezzata, dai venariesi di più lunga data ai venariesi che conoscono Venaria da poco, direi compresi i venariesi che magari vengono da altri paesi. Per informazioni, Fondazione Via Maestra, telefono 011 4241 124 oppure telefonare al signor Armando Crivelli al telefono 334 81 44 539. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.